Io non lo sono. Io non credo che tu non lo sai. Sono convinto che tu abbia idee molto chiare per quanto riguarda nostro figlio, Danny, e vorrei tanto saperli anch'io, tesoro. Io credo che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore. Tu credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? Sì. E quando credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? È il più presto possibile. È il più presto possibile? Sì. Jack, ti prego. Ti preoccupa la salute di Danny, vero, cara? Sì. E sei agitata per tuo figlio? Sì. E non sei agitata anche per me? Ma certo è anche per te. Certo è anche per me. Ma tu ci hai mai pensato alle mie responsabilità? Io non so di che parli. Hai mai pensato solo un secondo, un momento, a quante fottute responsabilità ho sulle mie spalle? Hai mai pensato solo per un secondo da quando siamo qui alle mie responsabilità verso la direzione? Non ti sei ancora resa conto che io ho accettato di occuparmi dell'Overlook Hotel fino al primo maggio? Non te ne sbatte niente, è vero? Che i proprietari mi hanno messi in mano l'albergo e che hanno fiducia in me? E che io ho sottoscritto una lettera, un impegno o un contratto col quale ho accettato di prendermi questa responsabilità? Ma tu ce l'hai, una vaga idea di che cos'è un principio etico e morale? Ce l'hai! E tu ce l'hai, sono una vaga idea di che cosa sarebbe il mio futuro, se non ce la faccio mantenere gli impegni che ho preso! Ci hai mai pensato tu? Rispondi! Stai lontano! Perché? Metti via quella mazza! Mia! Wendy? Dammi la mazza! Mia! Dammi la mazza! Mettere! Dammi la mazza! Mettere, matere, mia! Smettila con quella mazza! Te prego, posto! Dammi quella mazza! Wendy! Dammi quella mazza! Dammi quella mazza! Porta, porta! Ma! 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 Ma!